can 2017 red carpet le più sexy del festival la settantesima edizione del festival di canna appena iniziata ma sulla croesette abbiamo già assistito a una vera e propria invasione di dive una più splendida dell'altra e in tutto questo fulgore ci sono delle star che si sono fatte notare in modo particolare dalla superotta emilira taikowski alla sempre meravigliosa susan sarandon passando per la giunonica monica bellucci le attrice modelle che hanno popolato il tappeto rosso del prestigioso festival cinematografico hanno veramente fatto a gara colpi di spacchi pizzi decollete e gambe in bella vista ammirate la nostra gallery per scoprire i look più sexy dell'ultima edizione del festival a Grazie a tutti. Grazie a tutti.